Era da poco passata la metà di luglio quando il gruppo IREN comunicava il suo nuovo progetto di efficientamento energetico attraverso un piano mirato per realizzare a Torino la riqualificazione edilizia e impiantistica di ben 800 edifici comunali, di cui 500 considerati prioritari, poiché includono scuole, uffici, edifici culturali e religiosi e impianti sportivi. Sempre nel piano presentato dal sindaco della città Stefano Lorusso e dal presidente del gruppo IREN, Luca Dalfabro, si andavano a specificare gli interventi. Realizzazione di cappotti, di sistemi di isolamento termico, di impianti solari, termici e fotovoltaici, sostituzione delle centrali termiche attualmente in uso, con caldaia e condensazione, rifacimento dei serramenti e dell'illuminazione interna ed esterna degli edifici. Un progetto che prevede 110 milioni di euro complessivi di investimento a carico della multi-utility IREN, che oltre ai benefici ambientali ed economici previsti, è pari ad oltre 6 milioni di euro all'anno quanto costa al comune tenere accese di notte le luci di scuole e impianti sportivi quando sono vuoti e inattivi, offrirà a ricaduta vantaggi ai cittadini, col miglioramento del loro comfort abitativo in chiave sostenibile. Una priorità di fatto non rimandabile con avvio dei lavori nel 2023, che si concluderà nel 2029, consentendo un risparmio energetico garantito, pari al 33% dello storico dei consumi termici ed elettrici. In attesa di procedere però, bisogna cercare di contenere il più possibile le spese. La Giunta Comunale sta studiando una serie di correttivi per far fronte all'emergenza energetica, che registra per esempio il consumo del 27,5% dell'elettricità totale, un terzo, utilizzata dagli edifici destinati all'istruzione, nella fascia oraria dalle 23 alle 7. Percentuale che schizza al 38,5% per gli impianti sportivi, che però restano eventualmente aperti anche nei giorni festivi. Sprechi che, da parte di chi gestisce gli stessi edifici, non sarebbero così esorbitanti, ma che invece, secondo il report di IREN, possono e devono essere ridimensionati, con un risparmio in bolletta che si otterrebbe proprio dai contenimenti del consumo notturno nei 375 complessi scolastici, che da soli assorbano circa il 55% del totale dell'energia utilizzata negli ambienti di proprietà del comune in tutte le fasce orarie, seguiti dagli impianti sportivi e poi dagli uffici. E ancora ci sono, come detto, gli impianti sportivi. Qui la riduzione dei consumi tra le 23 e le 7 dovrà essere del 20%. Il piano allo studio prevede inoltre il taglio di mezz'ora all'illuminazione pubblica e lo spegnimento dei semafori di notte.